Ciao a tutti amici del Branca del Genere, io sono Anawa, benvenuti nella prima challenge del canale, no in realtà non fatte altre. Siamo nella Cornelle Impossible Challenge. In cosa consiste la prima impossible challenge alle Cornelle? La sfida quasi impossibile di farsi un selfie con ogni specie del parco. Ce l'avrò fatta? Non ce l'avrò fatta? Vedrete nel video. Mi raccomando supportate la serie se volete altre challenge e consigliatemi qualcuna nei commenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, questi erano gli animali che sono riuscito a riprendere durante la challenge. scusate se tanti tipo gli otoccioni il muntia che così non si sono visti ma faceva veramente tanto caldo c'era anche tanta gente e scusate se alcune non sono venute benissimo però dai come prima challenge secondo me ci può stare ditemi se devo fare o meno una penitenza però beh dai mi sono anche divertito a farla questa challenge oltre che impegnato spero vi sia piaciuta come idea consigliatemene altre nei commenti raccomando la descrizione basta coccodrilli